Ciao a tutti, qui è MrSkilter che oggi siamo nella prima top 10 del canale in cui vi elencherò i 10 software più costosi mai esistiti vi riferisco ovviamente a software accessibili al pubblico cioè acquistabili nonostante il loro prezzo veramente alto la valuta del costo dei software è il dollaro statunitense ma non perdiamo tempo e iniziamo a scalare la vetta della nostra top 10 al decimo posto troviamo Image Solutions Doc Composer con un costo di ben 22.000 dollari Image Solutions Doc Composer è un software molto utile che viene utilizzato per indicizzare le pagine web e creare biblioteche digitali è disponibile in tre categorie Editing and Management, Creation and Conversion e Searching and Indexing alla nona posizione troviamo VXWorks VXWorks è un sistema operativo real-time cioè utilizzato in ambito industriale per il pilotaggio di robot e il controllo delle macchine nelle industrie progettato dalla Wind River Systems questo software, la cui ultima versione è stata realizzata nel 2014 risale al 1984 da quell'anno il suo prezzo è salito fino ad arrivare al massimo di 199.000 dollari un prezzo esorbitante per un sistema operativo della sua categoria all'ottava posizione troviamo Search Engine il motore grafico sviluppato dalla Valve Corporation si tratta di un motore grafico molto flessibile che è stato rilasciato nel 2004 ed è stato utilizzato per giochi molto famosi primo fra tutto Half-Life 2 è compatibile per Linux, Mac, Microsoft Windows, Xbox, Xbox 360 e PlayStation 3 quello che stupisce è ovviamente il suo prezzo di 200.000 dollari arriviamo quindi alla settima posizione in cui troviamo RenderWord SDK questo software è stato progettato e sviluppato dalla Criterion Software dalla fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 si tratta di un motore grafico compatibile per molte console in particolare PlayStation 2, PlayStation 3 e la PSP oltre a Wii, Xbox, Xbox 360 e ai sistemi operativi Windows e Mac che dire il suo prezzo è molto alto e arriva a ben 240.000 dollari alla stessa posizione troviamo un altro motore grafico CryEngine 2 CryEngine 2 è il successore di CryEngine ed è stato progettato e sviluppato dalla Crytek nel 2007 è incredibile il suo costo che con un distacco di oltre 300.000 dollari dalla posizione precedente sale a 500.000 dollari siamo arrivati quindi alla metà della nostra classifica alla quinta posizione in cui troviamo New World System Public Administration nome molto lungo ma che indica uno dei software più validi in ambito amministrativo è un programma attualmente in commercio progettato dalla Tyler Technologies e venduto a un prezzo di ben mezzo milione di dollari cioè 500.000 dollari e ora saliamo nella zona calda e arriviamo vicino al podio in quarta posizione abbiamo infatti Autodesk Inferno 5 si tratta di uno dei software di video editing più famosi degli anni 2000 nel 2008 è arrivato a raggiungere un prezzo esorbitante di oltre 550.000 dollari ma ora arriviamo al podio come avete visto in questa classifica sono presenti molti motori grafici così come quello che domina in terza posizione Unreal Engine Unreal Engine è un motore grafico sviluppato dalla Epic Games nel 1998 e lanciato con il videogioco Unreal si tratta di un motore grafico completo e molto avanzato per gli standard dell'epoca con un rendering piuttosto avanzato che includeva un rilevamento delle collisioni e una buona intelligenza artificiale oltre a tantissime funzioni che non sto qui a delegati Arriviamo alla seconda posizione in cui troviamo Cadia V5 e piattaforma P2 si tratta di una piattaforma di tipo CAD progettata nel 1998 dall'azienda francese The Soul System molto diffusa nel settore aerospaziale e automobilistico è utilizzato da compagnie automobilistiche molto famose tra cui BMW, Porsche, Audi, Volkswagen e chi più ne ha più ne metta Piatria V5 disponibile per Windows XP e Windows NT ha raggiunto un prezzo altissimo nel giro di pochi anni arrivando a costare 880 mila dollari per quanto riguarda il pacchetto ED2 un prezzo comunque esorbitante ma molto distante dalla prima posizione che molti di voi probabilmente conosceranno è ora il rullo dei tamburi per il software in prima posizione un motore grafico che ha rivoluzionato la storia del videogame sto parlando di CryEngine 3 CryEngine 3 è stato sviluppato dalla stessa azienda di CryEngine 2 è stato creato nel 2011 e si tratta di un motore grafico 3 milioni in circolazione è stato definito come un motore grafico molto flessibile e versatile ma lo dite bene perché il prezzo non è molto rassicurato ed è di ben 1.200.000 dollari una cifra enorme se pensiamo a quelli che sono i software che vediamo costosi come AutoCAD, Finale o altri programmi bene se questa top 10 vi è piaciuta vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi e al prossimo video